Nella vasta distesa dell'universo accadono eventi che catturano la nostra immaginazione e suscitano la nostra curiosità. Ma tra la meraviglia dei fenomeni celesti si nasconde una domanda che risuona attraverso i secoli. Questi eventi cosmici sono più che semplici eventi casuali? Potrebbero essere segni, come predetto nei testi antichi, che indicano uno scopo più grande? Nel Vangelo di Luca Gesù parla dei segni del sole, della luna e delle stelle, insieme ai tempi tumultuosi sulla Terra. Mentre guardiamo il cielo, non possiamo fare a meno di chiederci, sono questi i segni di cui ha parlato? E se sì, cosa significano per noi oggi? Mentre ci imbarchiamo in questo viaggio di esplorazione, approfondiremo l'importanza di un raro evento celeste, un'eclissi solare totale. Dall'oscurità gelida che scende sulla Terra al silenzio inquietante della natura, ogni aspetto di questo fenomeno racchiude una storia in attesa di essere raccontata. Ma al di là della meraviglia scientifica, c'è una domanda più profonda. Questa eclissi potrebbe essere un messaggio da un potere superiore, un campanello d'allarme per coloro che cercano un significato in mezzo al caos? In che modo i recenti eventi celesti si allineano con le antiche profezie presenti nelle scritture? Quali insegnamenti possiamo trarre dalla storia? Dove eventi simili hanno lasciato il segno? In un mondo pieno di incertezza, come interpretiamo questi segnali e quali azioni dovremmo intraprendere in risposta. Prima di iniziare, assicuriamoci che tu sia pienamente coinvolto dai nostri contenuti. Se non l'hai già fatto, considera di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella delle notifiche. In questo modo, non perderai mai i nostri ultimi video. Ma aspetta, c'è di più! Se sei una persona a cui piace esplorare argomenti intriganti e impegnarsi in discussioni in tempo reale, abbiamo un'entusiasmante opportunità per te. Al momento abbiamo 20 posti disponibili sul nostro esclusivo canale Telegram. Qui potrai entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo e che condividono la tua curiosità e passione per l'esplorazione del mondo. Sul nostro canale Telegram potrai partecipare a discussioni dal vivo, ricevere aggiornamenti istantanei sulle nuove scoperte e connetterti con altri appassionati da tutto il mondo. Non perdere questa occasione! Dai un'occhiata al link fornito nella descrizione del video qui sotto e assicurati il tuo posto sul nostro canale Telegram oggi stesso. Nel testo biblico, Gesù predisse segni che avrebbero annunciato il suo ritorno, menzionando avvenimenti peculiari in cielo e distrette globali. Uno di questi segni menzionati in Luca 21-25 è la comparsa di segni nel Sole, nella Luna e nelle stelle insieme a agitazioni tra le nazioni. Ora, tuffiamoci in un recente articolo del Washington Post. Questo è un evento celeste imminente, un'eclissi solare totale prevista per L-8 aprile. Durante questo fenomeno, la Luna oscurerà completamente il Sole, proiettando un'ombra sulla Terra per circa 4 minuti. Si prevede che questo evento si verifichi dal Messico settentrionale al New England. I più intriganti sono i cambiamenti atmosferici che accompagnano l'eclissi. Si prevede che l'aria si raffredderà notevolmente, circa 10 degrees Fahrenheit, mentre i suoni degli uccelli e degli insetti taceranno e le creature notturne come gufi e pipistrelli inizieranno a muoversi. L'eclissi di quest'anno ha un significato particolare a causa della sua rarità. Ha suscitato l'interesse sia degli appassionati scientifici che di coloro che interpretano gli eventi attraverso il prisma della profezia biblica. Mentre alcuni lo percepiscono esclusivamente come un notevole evento scientifico, altri riflettono sul suo potenziale simbolismo come messaggio divino. Una pubblicazione, Harbinger Daily, ha esaminato i modelli storici rilevando una correlazione tra un modello simile di eclissi solare all'inizio del XIX secolo e successiva significativa attività sismica, compresi i terremoti di Nuova Madrid. Il contesto storico è notevole, con la prima eclissi solare avvenuta il 16 giugno 1806 e la seconda che completò una forma a X attraverso G gli Stati Uniti il 17 settembre 1811. Questa formazione a X attirò l'attenzione, soprattutto data la successiva attività sismica, compresi i devastanti terremoti di New Madrid. I terremoti di Nuova Madrid del 16 dicembre 1811, 23 gennaio 1812 e 7 febbraio 1812 sono stati tra i più influenti nella storia americana. Si sono verificati nella valle centrale del Mississippi, ma sono stati avvertiti fino a New York, Boston, Montreal e Washington DC. Le scosse furono così intense che raggiunsero persino la Casa Bianca, con il presidente James Madison e sua moglie Dolly che le sperimentarono in prima persona. La regione di Nuova Madrid, Missouri, vicino alla confluenza dei fiumi Ohio e Mississippi, ha sopportato il peso maggiore dei terremoti, sperimentando più di 2.000 scosse nell'arco di diversi mesi, con magnitudo fino a 8.8. Dato questo contesto storico e l'imminente completamento di un eclissi solare a forma di X nella parte centrale degli Stati Uniti, l'8 aprile 2024, sorgono domande su possibili catastrofi future. Questa eclissi potrebbe fungere da precursore di un altro evento sismico significativo o di un disastro naturale. Alla luce di questi eventi, i credenti sono invitati a contemplarne il significato. Il brano biblico di Luca 21, 25, 27 sottolinea l'attesa di segni insoliti e di sconvolgimenti sociali che culmineranno nel ritorno del figlio dell'uomo, nella potenza e nella gloria. Come tale, i cristiani sono chiamati a discernere i segni dei tempi e a rimanere saldi nella loro fede. La Bibbia dipinge un quadro completo della fine dei tempi, mettendo in guardia da vari indicatori come delusione, falsi insegnamenti, guerre, apostasia e calamità naturali. Serve come guida per i credenti per affrontare tempi incerti con resilienza e preparazione. Tra gli avvertimenti, dati in Luca 21, 25, sui segni nei cieli e sulle sofferenze sulla Terra, approfondiamo un articolo intrigante del Washington Post. L'articolo discute di un imminente evento celeste, un'eclissi solare totale prevista per le 8 aprile. Durante questo evento straordinario, la Luna oscurerà il Sole, gettando un'ombra temporanea su un'estensione considerevole dal Messico settentrionale al New England. In particolare, questa eclissi si tradurrà in un breve periodo di oscurità, della durata di circa 4 minuti, accompagnati da un notevole abbassamento della temperatura, dal silenzio nel mondo degli uccelli e degli insetti e dal trambusto delle creature notturne. Mentre alcuni potrebbero percepire questa imminente eclissi come una meraviglia puramente scientifica, esiste un'altra prospettiva, in particolare tra coloro che sono in sintonia con le profezie bibliche. Per questi individui, gli eventi celesti hanno una profonda importanza come possibili indicatori della comunicazione divina. Harbinger Daily, una pubblicazione interessata ad esplorare tali connessioni, richiama l'attenzione sui paralleli storici, in particolare sulla comparsa di uno schema a forma di X formato dalle eclissi all'inizio del XIX secolo. Questi allineamenti celesti coincidevano con una significativa attività sismica, in particolare con la serie di terremoti devastanti noti come terremoti di Nuova Madrid. I terremoti di New Madrid, avvenuti tra il 16 dicembre 1811 e il 7 febbraio 1812, si distinguono come alcuni degli eventi sismici più sorprendenti della storia americana. Riecheggiando fino a New York e Washington DC, questi terremoti hanno causato devastazioni diffuse, con magnitudo registrate che vanno da 7, 8 a 1 sconcertante 8, 8. Ora, con l'imminente completamento di un percorso a forma di X attraverso Gilei Stati Uniti Centrali per l'eclissi del 8 aprile 2024, sorgono naturalmente domande sui possibili paralleli con la storia. Questo allineamento celeste potrebbe presagire un'altra catastrofe sismica o un disastro naturale. Alla luce di queste intriganti correlazioni, i credenti sono esortati a discernere i segni dei tempi, come descritti in Luca 21-25, 27. Questo passaggio parla di segni particolari nei cieli e di tumulti sulla terra, annunciando l'imminente ritorno del Figlio dell'uomo con potenza e gloria. Mentre attraversiamo questi tempi incerti, è nostro dovere non cedere alla paura, ma mantenere una fede forte e una preghiera vigile. Prestiamo ascolto agli ammonimenti scritturali e prepariamo i nostri cuori per ciò che potrebbe accadere, confidando nella provvidenza di Dio. Nell'arazzo delle profezie bibliche, i segni della fine dei tempi non sono eventi isolati, ma piuttosto fili interconnessi intrecciati in una narrazione più ampia. Ogni pezzo, sia l'aumento della delusione, l'escalation dei conflitti o il verificarsi di catastrofi naturali, contribuiscono al ritratto degli ultimi giorni. L'aumento della delusione, ad esempio, non è solo una questione di falsi insegnamenti che si infiltrano negli ambienti religiosi. Si estende al tessuto stesso della società, permeando la politica, la cultura e le ideologie. In un'epoca in cui la verità è soggettiva e il relativismo morale regna sovrano, le persone sono facilmente influenzabili dalla retorica persuasiva e le dottrine seducenti che promettono soddisfazione, ma portano solo alla bancarotta spirituale. Guerre e voci di guerre, ripetendo le parole di Gesù, non si tratta solo di conflitti lontani, ma di costanti richiami alla propensione dell'umanità, alla violenza e al disaccordo. Che si tratti di nazioni in conflitto, per dispute territoriali o di differenze ideologiche che alimentano conflitti interni, i tamburi di guerra risuonano con crescente frequenza, gettando un'ombra di incertezza sul mondo. Inoltre, l'apostasia, il grande allontanamento dalla fede, si manifesta non solo come un aperto rifiuto del cristianesimo, ma anche come una sottile erosione dei valori spirituali. Lo si vede nell'apatia dei credenti che danno priorità ai risultati mondani rispetto alla loro relazione con Dio, nella tiepidezza dei cuori che diventano indifferenti all'urgenza del messaggio evangelico. Nel mezzo di questi sconvolgimenti sociali, i disastri naturali e i segni celesti servono come potente promemoria della sovranità di Dio sulla creazione. Dai terremoti che squarciano la terra alle eclissi che oscurano i cieli, questi fenomeni parlano di un ordine cosmico che trascende la comprensione umana, una sinfonia divina che si dispiega nei cieli e sulla terra. Tuttavia, nel mezzo del caos e dell'incertezza, la parola di Dio costituisce un fondamento indistruttibile, offrendo speranza e guida a coloro che danno ascolto alla sua saggezza. È una lampada per i nostri passi e una luce sul nostro cammino, illuminando la via da seguire in un mondo avvolto nell'oscurità. Nel mondo complesso e connesso di oggi, le tattiche di manipolazione e controllo possono manifestarsi in molti modi, rendendo imperativo per i credenti rimanere vigili e discernenti. Una forma sottile di manipolazione che spesso passa inosservata è il ricatto emotivo o la coercizione. Questa tattica insidiosa prevede lo sfruttamento delle emozioni, delle vulnerabilità o delle relazioni personali di qualcuno per ottenere il risultato desiderato. I manipolatori emotivi possono usare la colpa, paura o vergogna di manipolare gli altri affinché rispettino i tuoi desideri o soddisfino le tue richieste. Possono svolgere il ruolo di vittime, dipingendosi come martiri trattati ingiustamente o incompresi, facendo appello al nostro senso di compassione o empatia, cercano di ottenere simpatia e condiscendenza, spesso a scapito del nostro benessere. Inoltre, i manipolatori emotivi sono esperti nel gaslighting, una forma di manipolazione psicologica intesa a distorcere o minare la nostra percezione della realtà. Possono negare o distorcere la verità, manipolare i fatti o distorcere gli eventi per confondere, disorientare o minare la nostra autostima. Il gaslighting può essere particolarmente insidioso perché mina il nostro senso di fiducia nei nostri istinti e nel nostro giudizio, lasciandoci vulnerabili a ulteriori manipolazioni e controlli. Un'altra tattica comune utilizzata dai manipolatori emotivi è l'isolamento. Tagliandoci gradualmente fuori dalle nostre reti di supporto, come la famiglia, gli amici e altre persone fidate cercano di esercitare un maggiore controllo sulle nostre vite. L'isolamento può farci sentire vulnerabili, dipendenti e più suscettibili alla manipolazione, poiché diventiamo sempre più dipendenti dal manipolatore per la convalida, la guida o il supporto emotivo. Di fronte a queste tattiche è fondamentale che i credenti coltivino discernimento e saggezza confidando nella guida dello Spirito Santo per riconoscere e resistere ai piani del nemico. Dobbiamo proteggere i nostri cuori e le nostre menti dai subdoli inganni della manipolazione emotiva, rimanendo fermi nella verità della parola di Dio e nella certezza del suo amore incrollabile. Inoltre, siamo chiamati a coltivare confini sani nelle nostre relazioni, rifiutando di tollerare o consentire comportamenti manipolativi. Ciò potrebbe richiederci di affrontare e sfidare in modo assertivo il manipolatore, rifiutando di lasciarci influenzare dalle sue tattiche o intimidire dalle sue minacce. Rimanendo saldi nella nostra fede e rifiutando di compromettere la nostra integrità, possiamo superare ogni schema del nemico e camminare nella libertà e nella vittoria che Cristo ci ha assicurato. La manipolazione emotiva è una tattica sottile ma distruttiva usata dal nemico per minare la nostra fede, interrompere le nostre relazioni e ostacolare la nostra crescita spirituale. Rimanendo vigili, discernenti e saldi nella nostra fede, possiamo proteggerci dai piani del nemico e camminare nella vita abbondante che Cristo ci ha promesso. Con la guida dello Spirito Santo e il sostegno dei nostri compagni credenti, possiamo superare ogni ostacolo e sperimentare la pienezza delle benedizioni di Dio nella nostra vita. Concludendo la nostra esplorazione, non dimentichiamo le parole di Gesù che parlò di un tempo in cui tutti sarebbero stati testimoni del ritorno del Figlio dell'uomo. Sia che consideriamo questi eventi celesti come semplici spettacoli della natura o come messaggi divini, una cosa resta vera. Siamo chiamati a essere vigili per cercare la comprensione e preparare i nostri cuori a ciò che ci aspetta. Fateci sapere i vostri pensieri nei commenti qui sotto. Ci piacerebbe avere tue notizie. Grazie per esserti sintonizzato su questo video, ma prima di salutarci ho qualcosa di veramente straordinario da condividere con te. Non crederai ai tuoi occhi quando vedrai cosa ti aspetta nel prossimo video. Fare clic sullo schermo per vederlo ora. Ci vediamo lì per un'altra fantastica avventura. Per un'altra fantastica avventura. Per un'altra fantastica avventura. Per un'altra fantastica avventura.